ok serve per pulire che cos'è che usi per pulire ok però dov'è che metti lo sporco ok allora è un insetto? la mosca si buongiorno a tutti come state allora stamattina siamo già fuori a quest'ora anche se quanto sole? vabbè perché stiamo andando in Duomo? farò un po' di compri nooo nooo noi siamo finalmente in Duomo si vabbè centro che bella raga bellissima buongiorno a tutti come state? allora oggi siamo in compagnia di... No, ma comunque dopo tanto 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 tempo ci siamo... Sì, le solite frasi. Esatto, dove vai? Oh, eh, sì, oh, con Carlo. Ehi, 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 ehi. Come state? Bene. Stati io! Allora ci siamo introdurrate nell'ospedale per la guarda nostra mamma, e... Guarda come siamo conciate! No, perché adesso andiamo... Cioè, usciremo. Solo che dobbiamo andare in bagno. E quindi... Entriamo, sentiamo la nostra mamma, e dopo andiamo. Buon pomeriggio a tutti, come state? Allora... No, raga, no! Cioè, guardate quello che... Cioè, raga, c'è la mia sorella che tipo ha messo Charlie sopra la macchina lassù, però vabbè, ok. Comunque, tralasciando sta cosa, adesso prossima storia. Allora, dopo il mio bellissimo blooper fail, quello di prima, volevo dirvi appunto che ora in questo momento stiamo andando in aeroporto. Perché? Perché stiamo per partire, stiamo per andare in Spagna, ebbene sì, dopo un sacco di tempo ritorniamo in Spagna, ma questa volta andremo a Madrid. Quindi, una città che non l'abbiamo mai vista, insomma. E poi, continuate a restare attivi sulle nostre storie che vi sveleremo perché andremo, cioè, perché stiamo andando lì. E staremo solo due giorni, quindi nulla. Non vediamo l'ora. Ragazzi, stiamo per andare in questo momento. Stiamo per fare l'imbarco. Ma dov'è? Oh, non puoi capire? Non trovo il mio maglioncino con lo bianco, tipo questo qua rosa, l'hai visto? Ehm, no, non l'ho visto. Comunque sto uscendo. Grazie喔! Osa volta dalla città battista! A presto. ���mi nomine del bianco Master один momento. Ehm, no, non un sacchio. Pizarre il telefono attac HAM straight o糟atam improved il cuore gestione. Va bene, troppo si perde. Qua lei è più oprendente再見iva. Capacoste alle ci atti. Buongiorno a tutti raga, siamo struccate Stiamo andando a fare colazione E nulla Dopo vi faremo vedere Quello che andiamo a fare oggi Raga, per andare a fare colazione bisogna uscire Per attraversare tipo tutto questo giardino Che fa un freddo Sulla Ora andiamo a fare colazione Finalmente che ho fame Tanto Buongiorno a tutti, come state? Noi stiamo molto molto bene Non posso orlare troppo perché sono ancora in camera E non vorrei che tutto l'hotel mi sentisse Comunque adesso mi raccomando State attivi sulle storie perché vi spiegherò il motivo Per cui siamo qui a Madrid E poi vabbè vedrete anche il tutto Ok allora ho deciso di fare storie così Perché mi trovo un po' più comoda Comunque allora Oggi per noi è un giorno molto molto speciale Perché ci sono dato la possibilità Di incontrare una persona Che noi ammiriamo da davvero tantissimo tempo Adesso vi dirò il nome E capirete appunto Perché chi ci conosce sa Che è il nostro cantante preferito Quindi sì è un cantante Vorrò ti indovinare Sinceramente non pensavo di ricevere una risposta A quest'ora Però qualcuno che è a casa mi ha già risposto E ha già indovinato Ebbene sì siamo state invitate All'uscita del nuovo disco di Osuna Ossia Nibiru E niente oggi ci sarà tutto un evento E io non vedo l'ora Ve lo giuro Vi porteremo assolutamente con noi Vi mostreremo tutto E appunto anche Osuna Quando... Cioè se riusciamo facciamo il video Altrimenti facciamo vedere semplicemente la foto Che sperando venga bene Se preparò Se puso linda Su amiga llamava Salió de rumbo A nada le importò Porque su novio Voy a la engaña Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol En la pista se caló Raga lei stava tipo morendo Perché cioè dai Che ci sono mette un voto Cioè raga Non è impressionante Oh mio Non è impressionante Non è impressionante Non è impressionante E se vuole la notte Se va corriendo La vita è partita Tengo fantasias Con tu figlio Me passò los días Tra la notte Tengo fantasias Con tu figlio Me passò los días Esperando Pensando y imaginando Deciera, yo te quiero, Romeo Me aguanto, pato, pero no aguanto Tenerte cuando me estaba mirado Dime cuánto, cuerpo, dime cuánto Tu me tengas ganas aquí esperando Si figlias con tu figlio Me passò los días Trañándote Tengo Ahora violeta te culpo Mi casa alivio E me picco Esa es la bruja Y la verdad Mi amor Mi amor Grazie mille! Grazie mille! I controlli? Ah, sì!